Venerdì 3 marzo ben ritrovati su Vercelli Web TV. Ieri presso l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Santi Asse è tenuto un incontro delle fiamme gialle con gli studenti per parlare di cultura e della legalità economica nell'ambito della quinta edizione del progetto. È un'iniziativa che trae origine da un protocollo di intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzata a promuovere nell'ambito dell'insegnamento, cittadinanza e costituzione un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L'intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, delle contraffazioni, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nuove regole per i giochi proibiti. È stata aggiornata da parte del questore di Vercelli la tabella dei giochi proibiti di carte o biliardo a tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, del pubblico interesse e della fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco. La tabella dei giochi proibiti è uno strumento che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza affida al questore come autorità di PS. Sostanzialmente con questo intervento che il questore della provincia di Vercelli ha realizzato da poco, si è voluto ammodernare quello che è uno strumento che il testo unico prevede oramai da più di un secolo, adeguandolo a quella che è la tendenza attuale della legislazione sia statale che regionale. In particolare si sono volute armonizzare le norme statali che demandavano al questore praticamente la disciplina pressoché totale dell'esercizio dei giochi e armonizzarle quindi con la disciplina locale, regionale, quella che la Regione Piemonte ha fatto nel giugno dello scorso anno, che prevede invece uno spostamento di competenze anche sugli enti locali. Questo anche con particolare riferimento al contrasto del fenomeno della ludopatia. È stato un carnevale scoppiettante quello tenuto sia a Borgo Vercelli e che si è concluso nei giorni scorsi. Come vedete dalle immagini il gruppo è stato numeroso ed ha effettuato parecchie visite per la città e non solo. Passiamo agli appuntamenti del weekend e cominciamo da Vercelli. Domani i Musei Vercellesi propongono un percorso inedito a tema dedicato alla Croce Rossa. L'iniziativa a scopo benefico è finalizzata alla raccolta fondi destinata all'acquisto di un mezzo accessoriato per il trasporto di isabili. Si tratta di visite guidate a tema che dureranno l'intera mattinata. Appuntamento alle 9.30 davanti alla sede della Croce Rossa di Via Gioberti. Ancora a Vercelli domani e domenica alle 15 ci saranno le prime visite guidate alla nostra città. Organizzate dal comune con l'associazione strada del riso vercellese di qualità partiranno entrambe da Arca di Via Galileo Ferraris. Sempre in Arca ricordiamo che prosegue la mostra a fil di spada, la leggenda della scherma vercellese e i 50 anni del trofeo Bertinetti aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Domenica pomeriggio a Caresana Blot durante la fiera in campo il Lions Vercelli donerà un cane guida ad un non vedente. L'appuntamento è fissato per le 15 e prima ci sarà un'esibizione di cane guida per cechi del centro addestramento cane guida del Lions di Limbiate. A Sant'Ià è tutto pronto per dare il via all'iniziativa primaverile culturale promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni. Il calendario è davvero fit, buona parte dell'ispirazione è stata tratta dalle due importanti ricorrenze del mese di marzo, il giorno 8 festa della donna e del 21 giornata mondiale della poesia. Si parte però domani alle 17.30. Sarà con l'inaugurazione il 4 di marzo una rassegna d'arte con il tema violenza sulla donna al centro culturale Jacopo Durandi. Ci saranno una trentina circa di pittori di fama e mi pare tre o quattro scultori che lavorano tutti e presentano opere su questo tema. Ci spostiamo a Casale Monferrato. Proseguirà sabato 4 marzo domani alle ore 17 nella manica lunga del castello Paoleologo con l'inaugurazione di Mettonicale, l'assenza con le righe attorno, il progetto Arte in pratica in Monferrato dedicato alla produzione artistica contemporanea del territorio. Si tratta della prima mostra personale di Roberto Miglietta, conosciuto in Monferrato soprattutto come maestro della cucina e che ora decide di mostrarsi al pubblico come artista del colore e della materia. Domenica alle 16 in programma Viaggio in Giappone, una nuova iniziativa del Museo Civico di Casale Monferrato, ex convento di Santa Croce in via Cavour V. Il Paese del Sollevante sarà protagonista di una visita guidata e di un laboratorio dedicato ai bambini a partire dai sei anni. Ed ora la pubblicità e poi lo sport. Mai mollare è la certezza del presidente Massimo Secondo alla vigilia della trasferta della sua Provercelli in quelli termini. Ugualmente, forse nel momento in cui abbiamo avuto più infortunati abbiamo fatto quattro punti in due partite. Adesso abbiamo due trasferte molto difficili perché la Ternana insomma è uno spareggio e il derby in trasferta è il derby in trasferta. Però ripeto io vedo che questi ragazzi sono vivi e hanno voglia di battersi fino alla fine. Con buona pace di quelli che ci vorrebbero già retrocessi. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19. Buon weekend a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.